Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Tavola Serena. Dato l'avvicinarsi delle feste natalizie, oggi vorrei proporvi degli antipasti molto facili da fare con tre creme da realizzare in casa, con il vostro robot a cucina. Iniziamo subito! Ricetta! Grazie a tutti! 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 Vi ringrazio di aver visto questo video, spero tanto che possa esservi utile. Se vi piace lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale cliccando sul bottone che trovate qui sotto. Ciao!